Grazie prima di tutto per ricevermi e per essere così numerosi. Il fatto di trovarmi in Brasile questa volta, in questo paese che amo molto, ma questa volta mi è in una situazione abbastanza eccezionale, perché ben quattro libri sono pubblicati. Vorrei scusarmi con voi, soprattutto perché sono titoli assai diversi l'uno dall'altro e non vorrei darvi l'impressione di essere qualcuno che cumula tutta questa serie di forme di pensiero, di contenuti di pensiero, tutti insieme. Sono quattro libri che corrispondono a un periodo molto lungo di anni e quindi sono diversi. Non basta leggerne uno per capire tutti a quattro, ma sono anche fasi diverse della mia vita di pensiero e di azione. Quindi sono molto lieto di trovarmi in questa situazione che mi imbarazza un po', devo dire, così a primo acchito. E però proviamo a muoverci in questo programma muscolare che mi è stato fornito, costruito, tra SESC e l'Università di São Paulo. Vengo dunque all'argomento come e perché mi sono occupato di Foucault. Sono un militante politico e anche uno studioso di filosofia. e mi chiedo a me stesso perché così presto, in fondo, negli anni 70, circa 50 anni fa ormai, ho cominciato ad occuparmi di Foucault. Perché ho ritenuto, in quanto militante, di trovare nel suo pensiero elementi che divenivano, per me, immediatamente utilizzabili dal punto di vista politico. Devo dire che noi, io e i miei compagni, negli anni 70, e cioè subito dopo il 68, ci muovevamo in una lotta dentro il movimento operaio, politico e sindacale, e contro le linee politiche, la direzione politica che questo movimento aveva assunto. Pensavamo infatti che il socialismo, con il suo seguito di incompatibilità, di compatibilità e di alleanze con il sistema capitalista, si stesse trasformando, da arma quale era stata, in una prigione per le lotte, di trasformazione che la classe operaia, in quegli anni, sviluppava con molta potenza. e soprattutto eravamo di fronte a quello che era un fenomeno abbastanza specifico, e cioè i movimenti socialisti, i movimenti comunisti, escludevano tutto quel lavoro vivo che noi vedevamo vivere, vedevamo muoversi nella società e diventare protagonista nelle lotte sociali. A nostro parere, dunque, la situazione, a partire dal 68, era profondamente mutata. Il capitalismo stava mai organizzando la società in maniera diversa da come il socialismo l'aveva compresa. Lo sfruttamento capitalista usciva dalle fabbriche ed organizzava la società, estraeva valore, il valore che serve al capitale per nutrirsi, per costruire il suo sistema, non più semplicemente degli operai, ma dal sociale, dalla società intera. E tutto questo avveniva in un momento in cui le lotte operaie estremamente forti avevano, almeno tra gli Stati Uniti e l'Europa del Nord, chiuso al capitalismo la possibilità, la capacità di aumentare la sua produttività nelle fabbriche. Il capitalismo usciva dalle fabbriche ed investiva la società perché non riusciva più a superare, a dominare il rapporto di forza che ha sempre costituito il rapporto capitalista nelle fabbriche. Stavamo dunque entrando in un'epoca nuova ed eravamo dentro ad un mutamento di paradigma del sociale. ecco la cosa di cui Foucault dal principio ci avvertiva ed ecco perché abbiamo cominciato a studiarlo, a leggerlo. Era un periodo di grande letture perché i libri in quel periodo, i libri interessanti, non mancavano. c'era per restare semplicemente alla fase, alla zona europea più limitata tra Berlino, Parigi, l'Italia. C'era da un lato appunto la grande produzione dell'opereismo, del primo opereismo con Tronti, questa revisione del marxismo che ha funzionato credo in maniera molto buona e molto utile per la lettura del nuovo paradigma sociale. C'era Habermas che concludeva con la scuola di Francoforte ma nello stesso tempo c'era stata l'esplosione praticamente della conoscenza della scuola di Francoforte, la sua diffusione, la lettura, la grande scoperta di Benjamin. C'era d'altra parte in Francia un fiorire di pensiero assolutamente straordinario per limitarsi alle ultime grandi personalità Deleuze, Derrida. Era dunque un periodo nel quale negli anni successivi al 68 avevamo la capacità e la possibilità di leggere. A Foucault però portammo una speciale attenzione. Io in particolare e altri miei compagni eravamo molto amici di Deleuze e di Gattari e discutevamo insieme di politiche e di filosofia. Con loro credo che abbiamo demolito definitivamente quella dialettica italiana che in varie modi ancora dominava il nostro pensiero attraverso la nostra adesione al marxismo e attaccavamo la dialettica hegeliana con Deleuze con Félix Guattari nella duplice figura che essa e nella duplice qualificazione che esso aveva da un lato come glorificazione del processo capitalista di successive progressive Aufhebungen superamenti in avanti della potenza dello Stato e del sociale e d'altra parte quella che era del tutto hegeliana teleologia storica del marxismo trionfante del marxismo dogmatico trionfante e con Deleuze Félix e Guattari imparavamo a costruire concetti e concatenamenti nuovi a portare soprattutto i corpi in prima linea questa grande rivoluzione diciamo del pensiero se volete in un pensiero corrente in un pensiero comune dal concetto al corpo come primum nella osservazione della realtà che ci stava accanto e a recuperare passioni affetti non solo nella logica ma soprattutto nel pensiero politico da questo punto di vista il passaggio attraverso Spinoza è stato fondamentale ma ci mancava la storia con Deleuze con Guattari ci mancava la storia con Spinosa ci mancava la storia ed è lì che appunto Foucault interviene in maniera assolutamente fondamentale come veramente la virgola che dà significato ad una frase ma è molto di più di una virgola è in effetti un grosso pacco di pensiero di analisi di metodologia che ci viene offerta perché noi della storia avevamo bisogno un bisogno urgente essenziale una storia di quello che avevamo vissuto e che stavamo criticando questa formidabile storia di un secolo di due secoli di lotto per Aie del socialismo della rivoluzione delle guerre civili europee dei massacri delle guerre noi ne eravamo ancora segnati e anche di quello che avevamo vissuto ma anche di quello che avremmo vissuto avevamo bisogno di capire dove si andava di mezzo c'era da operare un mutamento di paradigma un mutamento di paradigma della comprensione storica ma coinvolgendo evidentemente una logica del sapere ed una descrittiva o se volete un'analitica delle passioni la teoria poteva porsi questo problema ha potuto porsi questo problema solo dopo il 68 dopo che una enorme rivoluzione degli spiriti e non solo anche nelle fabbriche si è ravvenuta vorrei vorrei qui per capirci meglio proporre un gioco di letture storico-filosofiche per descrivere questo mutamento di paradigma una specie di commedia nella quale i personaggi che ci interessano coprono una funzione in altra epoca attribuita ad altri personaggi un po' come si giocava nell'antichità a portare l'attualità nelle maschere di Plauto Terenzio di vecchi attori della commedia un gioco filosofico che ci aiuti a liberarci dal fardello di quelle mille collezioni di storia della filosofia universali ed eurocentriche che l'università tedesca ci ha regalato e che alla quale siamo in fondo grati alla fin fine ma che però è assai noiosa facciamo dunque un esempio prendiamo Deleuze un esempio facciamo dunque prendiamo dunque questa favola Deleuze Derrida Foucault rappresentati come ripetizioni di Hume Kant Hegel si tratta di un gioco e vale la pena di ricordarlo ancora non prendetelo troppo sul serio ma è solo giocando che annulleremo le risonanze reazionarie che si oppongono ad una nuova percezione della storia Deleuze allora in primis ecco la disarticolazione di ogni ipotesi di categorie trascendentali e di soluzioni dialettiche tanto quanto Hume era stato il distruttore di ogni possibilità di categorie o di soluzioni causali o ancora Deleuze come distruttore di ogni macchina di individualizzazione di ogni consistenza cartesiana dell'io quanto Hume era stato di ogni forma di sostanza ed entrambi inventori di una critica empirica e costitutiva attraverso l'immaginazione questa radicale messa a punto dell'essere questa superficie ritrovata dall'ontologia distrugge ogni pretesa neocantiana di differenza dell'intelletto dell'esperienza sradica ogni genealogia soggettiva dell'essere apre al problema della ricostruzione di un terreno ontologico guardate bene il neocantismo non è semplicemente il neocantismo tra virgolette quello di Richard e Wendel banda da un lato o di Cohen e Nathorp dall'altro delle varie scuole tedesche il neocantismo è una forma di pensiero che con la crisi dell'idealismo classico dell'idealismo hegeliano si impone e si caratterizza in realtà come filosofia della costituzione del mondo del mondo moderno a partire dal trionfo del socialismo dal dopo comune di Parigi è il neocantismo che permette una serie di operazioni ideologiche che dividendo appunto fenomenologia e strutture categoriali della conoscenza permette le mediazioni del reale da tutti i lati il neocantismo non è semplicemente delle scuole di pensiero ma è una forma dominante e gemone di dominio filosofico del reale lungo almeno quasi 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 50 60 anni in Deleuze giustamente c'è quest'opera di distruzione che è assolutamente centrale fondamentale ecco emergere su questa situazione su questo snodo Derrida e Derrida egli si sporgi su questa su questa superficie dell'essere così come definita da Deleuze senza timidezza alcuna e ce la offre come una compatta costituzione materialista assumendo dal pensiero fenomenologico la relazione percezione intenzione linguaggio e stringendola nel concetto di realtà il trascendentale è da Derrida portato nell'immanenza il fenomenico nel noumeno la cosa in sé si smaschera e si presenta come mondo il mondo che è Derrida riesce in quello che Kant aveva da un lato prescritto e che aveva parzialmente compiuto prigioniero di un progetto fenomenico e di una critica trascendentale ora qui giunti quel mondo compatto può essere decostruito ecco di nuovo il Kant critico il Kant dell'analitica il Kant è decostruttivo ma questa volta anche costruttivo che rientra nella scena una scena dove i concetti assumono figure baluginanti incerte una soggettività che è immersa nel sospetto di esistenza un essere che ha come una difficoltà a formarsi e la scena storica è così occupata da spettri Derrida non li trattiene li conduce piuttosto sul proscenio laddove anche qui è forte la riminascenza kantiana essi terrorizzano logici e fenomenologi quando si ostinino nella fissazione dell'essere e terrorizzano anche principi e re che dello spirito e delle passioni fanno scempio per piegarle al dominio infine c'è Foucault che in questa commedia può essere rappresentato come autore di un'operazione hegeliana tanto semplice e radicalmente innovativa quanto era stata quella del filosofo di Stoccarda egli Foucault assume la storia come terreno materiale la riporta ad una ontologia produttiva vissuta come praxis costitutiva di nuovo quindi storia del mondo come giudizio sul mondo Weltgeschichte als Weltgerichte la storia del mondo come giudizio giustizia del mondo certamente no la commedia qui diventa adesso fiction lasciamola da parte perché la praxis costitutiva che costituisce e attraversa l'ontologia dell'attualità non è in nessun caso superficiale né numenica né trascendentale è appunto costitutiva essa è in Foucault articolata tra due poli da un lato quello storico incarnazione di una storicità a cui è tolta ogni origine teologica ed ogni senso teleologico ogni origine divina ed ogni senso finalista dall'altro quello della soggettivazione che è liberato dal chiasma imposto da un qualsiasi procedimento dialettico o da un qualsiasi aufhebung superamento dialettico oppressivi anche quando la dialettica voglia essere negativa alla cogezza siamo finalmente dopo il 68 quello che noi avevamo presentato come come commedia adesso si presenta finalmente come realtà se non come tragedia con Foucault dunque noi sentivamo che c'era bisogno di una nuova generazione di discorso politico per trasformare il mondo per prepararci a farlo per metterci in condizione di farlo c'era l'urgenza di un radicale mutamento di paradigma epistemico di conoscenza che corrispondesse alle nuove determinazioni dell'ontologia del presente a questa storia che era completamente mutata un terreno difficile che ci allontanava dal marxismo come teoria del materialismo storico e dialettico come in fondo positivismo di un futuro necessario ci lasciava tuttavia accanto a Marx quando organizzando le lotte nello sviluppo della praxis ci muovevamo dentro e contro un capitalismo in via di trasformazione non era forse allora inutile allargare il quadro e riportare il rapporto Foucault-Marx che intuivamo da qualche parte essere consistente dentro lo sviluppo della storia europea soffermandoci innanzitutto su quello che chiamava il momento Marx considerandolo come costruzione di una filosofia della rivoluzione contro la quale interamente si è caricato il fuoco del potere e della filosofia e della filosofia universitaria e ricordiamo che non è questo un episodio unico e bizzarro è sempre così è la norma questa violenza rovesciata contro l'insorgenza di classe e il pensiero critico e costitutivo una norma del potere è una reazione che si ripete ogni volta che le lotte delle classi subordinate fanno tremare il potere Marx e la sua teoria ci collocano all'interno dell'esperienza vissuta della classe operaia della lotta di classe proletaria saranno quindi inevitabilmente combattuti e repressi dal potere e malfamati dai censori universitari ed ora il momento fuoco dopo il 68 e gli si schiera dalla parte di coloro che considerano necessaria la riforma del sistema politico e ideologico affermatosi nel secondo dopoguerra e soprattutto contro quelli che hanno cercato di togliere alla politica democratica e dalla lotta di classe ogni pulsione sovversiva ogni dimensione critica ogni decisione teorica di trasformazione e di rivoluzione insomma ogni ogni soggettivazione in questo quadro egli ci dice innanzitutto bisogna cambiare se stessi bisogna lottare sui bisogni nel micro della realtà costruire attorno ai desideri una politica della vita contro il potere che sempre più si produce e riproduce dentro e contro la vita ogni riforma muta il nostro destino e la soggettivazione della lotta riapre riapre la storia la storia e quella della filosofia soprattutto è fortunatamente un campo di battaglia dove si scontrano ideologie meglio forme di vita astratte dal sapere filosofico trasformate eppure che diventano di nuovo concrete come esperienze di un pensiero singolare e di corpi attivi così la storia della filosofia allo stesso modo della storia in generale si presenta come discontinuità eccedenza azioni reazioni e lascia sul terreno i suoi cadaveri esalti i suoi eroi come in tutte le battaglie se ora torniamo indietro e ci collochiamo all'interno del dibattito filosofico fondamentalmente tedesco che dominò l'Europa fra l'8 e il 900 in quel tempo in quel dibattito filosofico dunque soprattutto per quello che riguarda il pensiero sulla storia ci sono autori e forze da Diltai a Max Weber per non parlare di Nietzsche che fanno i conti con la reazione statuale universitaria contro la lotta di classe e con la riduzione della storia a destino del comando contro la libertà autori non necessariamente progressisti che cercano di comprendere la natura espansiva del processo storico e che per esprimerla coniano il concetto di storicità di Gesell Schicklichkeit strappandolo alla teologia e dal trascendentalismo affermazione di una storicità concreta nella quale cogliere non tanto la historia rerum gestarum la storiografia post di quello che è avvenuto quanto res gesta la storia fatta le cose fatte nella loro attualità e si vogliono collocarsi dentro un'ontologia dell'attualità e deve vivere una dialettica di opposizioni irrisolte e progressive così vogliono segnare il decollo della libertà accettando il rischio tutti i rischi di un'opera di liberazione dominano in questa esperienza in quella fase della filosofia tedesca che ci interessa qui e che all'accademia si contrappone creativamente teniamoci per esempio all'opera di Diltai alcuni stilemi rielaborati con continuità e con tonalità positive il primo di questi è il senso della crisi e dell'anarchia dei valori che il capitalismo affermando si determina una frase di Diltai il capitalismo può fare e disfare a suo talento è simile ad una bestia dai mille occhi e dai mille artigli e senza coscienza che può rivolgersi dove più le talenta un secondo motivo del confronto con quanto di reazionario sta avvenendo consiste in una forte rivendicazione dei lumi dell'illuminismo non del Kant delle critiche ma del Kant cantore della rivoluzione del Kant che propone i lumi come terreno e percorso progressivo ed indefinito di conoscenza sapere aude in terzo luogo avviene inevitabile a questo punto un'esperienza di rottura nel definire un'eccedenza espressiva che sa andare al di là della stessa esperienza vissuta dell'erlebnis e cioè sa strutturarsi nella comprensione temporale della vita e proiettarsi nella sua riproduzione in un dispositivo ricostruttivo del mondo della vita così la critica della ragione storica divene la base di una genealogia costitutiva un quarto elemento consiste nella qualificazione di queste eccedenze storiche una qualificazione che si vuole intensiva e che produce soggettivazione una qualificazione che si vuole nello stesso tempo estensiva e che riafferma l'umanesimo non tanto come universale ma come nome comune è quest'umanesimo che si impone nel momento stesso in cui è dichiarata la morte di Dio che significa la morte dell'uomo come soggetto ipostatico della metafisica occidentale e nel momento stesso in cui risalta un'altra immagine di uomo di un altro uomo che costruisce senza certezze ma con quale energia la propria opera nella storia infine è il rapporto storia società che è affermato la storia non è contemplata ma è agita la società è strutturata dall'azione la storicità come orizzonte tessuto dell'agire è sempre attraversata da una presenza collettiva questa esperienza teorica della storicità della Gesellschaft è tradotta in Francia alla fine della seconda guerra mondiale è il cosiddetto marxismo occidentale che trasferisce l'ontologia della storicità nel pensiero francese Maurice Merleau-Ponty riprendendo Lukács di storia e coscienza di classe incorpora la soggettività alla storia senza farne un epifenomeno ma né e neppure ipostatizzando il soggetto parente virgolette noi mettiamo la storia in forma secondo le nostre categorie ma le nostre categorie a contatto con la storia si liberano della loro parzialità il vecchio problema del rapporto del soggetto e dell'oggetto è trasformato ed il relativismo superato quando lo poniamo in termini di storia poiché è qui l'oggetto sono le tracce lasciate da altri soggetti ed il soggetto la comprensione storica presa nel tessuto della storia è perciò stessa capace di autocritica dominata da un'idea di verità senza condizione e ancora Merleau-Ponty è il marxismo che incorpora la soggettività dalla storia senza farne un epifenomeno è il midollo filosofico del marxismo il suo valore di cultura ed infine il suo significato rivoluzionario in sé solidali fine della citazione i due rapporti coscienza prodotta coscienza produttività si tengono assieme così come si ricongiungiono l'esperienza francese del dopoguerra del secondo dopoguerra quelle esperienze che avevano contrastato la neutralizzazione e l'esorcismo delle forze resistenti nella storia più recente del capitalismo devo ammettere che non sarei mai riuscito a fare mio a definire questo percorso filosofico se non avessi avuto la possibilità di muovermi tra Italia e Francia negli anni settanta fra quei due paesi si dava infatti in quegli anni una strana complementarietà quello che in Italia avveniva nelle lotte era tradotto in Francia in filosofia in Italia avevamo vissuto una storia meglio un'ontologia produttiva di lotte ed una prassi costituente in modo nuovo era con l'immersione in quell'esperienza che ritrovavamo la continuità del pensiero marxiano ed il suo intreccio con le determinazioni che la nuova filosofia francese veniva producendo la comprensione era qui l'effetto di un passaggio non solo di un passaggio da paese a paese ma un passaggio storico attraverso vittorie sconfitte sconfitte delle lotte in Italia disfatta del socialismo rivoluzionario in Europa ma era anche insieme la rinascita di un discorso filosofico che poneva un soggetto costituente cioè la piena soggettivazione della nuova composizione di classe al centro delle lotte e dei processi di trasformazione in quell'epoca ritorniamo a Foucault a quando l'ho lessi e ne percepii nel 77 circa nel 1977 dalla lettura delle sue precedenti grandi opere e della vicinanza con gli assistenti di amici di Foucault non l'ho mai incontrato Foucault direttamente frequentavo però insegnavo allora all'Ecole Normale Superiore a Wilma la portata delle lezioni che comincia in quel periodo a sviluppare a dire e gli stava appunto reinventando la storia del capitalismo descrivendone le mutazioni e con esse le figure della sovranità ma la cosa fondamentale non stava in questa descrittiva quanto nel metodo sviluppato che rompeva con ogni gabbia strutturalista e si addensava in ogni regione di analisi attraverso dispositivi cioè analisi dal basso dell'esistenza per comprendere l'avenire dei meccanismi della sovranità oppure rovesciato il punto di vista in un'analisi dall'alto per comprendere i meccanismi della resistenza non c'era comando senza resistenza e viceversa e ancora questo incrociarsi di dispositivi rivelava sempre un'eccedenza di libertà di soggettivazione la vita era assunta sussunta nel potere certo ma questo rapporto era studiato chiedendosi se fosse possibile la rottura di questa sussunzione lo scatenamento di un'eccedenza di liberazione e di soggettività qui di nuovo mi trovavo a seguire Foucault come militante e a riconoscere in Foucault lo sviluppo di alcune fondamentali intuizioni marxiane e la loro libera rielaborazione si tratta del concetto Foucaultiano del biopolitico essenzialmente che vale come quello di marxiano di sussunzione del reale di sussunzione reale della società nel capitale e poi del passaggio Foucaultiano dai sistemi disciplinari dall'analisi dei sistemi disciplinari all'analisi dei sistemi di controllo che chiariscono in maniera definitiva la transizione dal modo di produzione fordista al postfordismo e tante altre cose fra di esse si esalta la concezione del biopolitico come tessuto di riproduzione della società e di circolazione delle merci non solo materiali ma soprattutto immateriali conoscenza saperi affetti eccetera e come orizzonte aperto di produzione di forme di vita ognuna e tutte queste categorie ben altre sempre di ispirazione Foucaultiana sono state usate da Michael Hart e da me in Empire Multitude Commonwealth per descrivere le peripezie della sovranità e per costruire la narrazione del passaggio dallo Stato-Nazione e del concerto degli Stati-Nazione al modello globale imperiale dai concetti antropologici e politici dell'individualismo alla definizione della moltitudine come insieme molteplice di singolarità ma al di là di tutto questo un marxista pur strano e assai eterodosso come mi ritengo a Foucault è obbligato per aprire alla soluzione di due problemi fondamentali quello della definizione del potere e quello della sperimentazione delle genealogie e dei movimenti della soggettivazione del potere si sa come Foucault lo definisce un'azione sull'azione dell'altro qui siamo nel mezzo di quella dialettica di capitale che se permette a Marx di costruire il suo modello comprensivo del capitalismo permette a noi seguaci di Foucault di vedere come capitale e potere si unificano si unifichino anche concettualmente e costituiscono un chiasma tra due azioni contraddittorie costrette ad unirsi ma tuttavia intransitive capitale costante e lavoro vivo rapporto di forza nel quale la duplicità delle funzioni non è mai equilibrata o equiparata perché perché è solo il lavoro vivo è solo la resistenza che sono produttive altrettanto vale per il potere comando e resistenza costituiscono una coppia che non si sovrappone non c'è contratto che possa accordare queste due realtà e non c'è trascendenza che possa comprendendole unificarle è il movimento della resistenza nel suo scontro con il potere che produce res gestae azioni che agiscono e producono la storia ed è essa a dare il segno di un eventuale comune progresso dell'umanità il tema della soggettivazione è per altri versi ben più complesso ma nella mia lettura di Marx e in Marx e oltre Marx svolgevo il tema della soggettivazione in termini di conoscenza conoscenza della tendenza presa di coscienza scienza approccio insufficiente anche se in un periodo di egemonia culturale del marxismo come furono gli anni 70 facilmente comprensibile ed efficace Foucault ripropone il tema e lo pone certo più correttamente ed in maniera del tutto materialista come problema del corpo conoscenza volontà cura tecnologie il corpo è al centro della ricerca della diagnosi del dispositivo di azione dell'inchiesta della scienza della tendenza della coscienza politica della lotta soggettivazione dunque come azione che incide e trasforma collettivamente l'essere guardate bene su questo terreno fioccano le critiche e non le minori da due lati almeno trascurando le infinite variazioni che si possono dare tra l'uno e l'altro di questi modelli che presento una prima critica consiste nell'attaccare la biopolitica fucoltiana come una tardiva teoria dell'essere mutante e o attivamente costituito trasformato laddove a contrario quest'essere e questa modalità di trasformazione sarebbero sempre sempre state prodotte nella natura nella vita e se ne conclude che questo sempre riduce ogni modificazione ogni trasformazione a una particella insignificante la storia non deve sopravvalutare quel che può compiere essa resta una variazione della natura l'insistenza sui modi di vita e sulle trasformazioni del BIOS sarebbe quindi pura letteratura questa è la linea che percorre ad esempio una delle critiche più serie alla biopolitica che è quella di Bruno Laturo nel tentativo di mostrare appunto quanto l'antropologia della vita oltrepassi superi o tolga in senso hegeliano la storicità del mondo alla biopolitica si sostituisce una cosmopolitica glorificazione dell'impotenza dell'agire forse in qualche modo si tratta dell'affermazione di un processo senza soggetto e tanto più è una negazione di ogni soggettivazione una sorta di strutturalismo su un orizzonte naturalista dopo quella proiezione in un infinito indeterminato sfondo naturale su un secondo estremo lato il biopolitico è confrontato alla consistenza dell'individuo all'individuazione delle sue componenti piuttosto che alla soggettivazione della sua vita e appunto negli anni settanta scusami eccoci 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 scusate scusami scusami riprendere ah sì dopo quella critica del tipo del modello Brun Ratou cioè della negazione dei caratteri appunto dei caratteri creativi del processo storico e questa riduzione naturalistica di questo passaggio parlavamo dell'altro lato della critica dell'altro polo critico dall'altro polo estremo critico ed è quello su cui il biopolitico è confrontato alla consistenza individuale all'individuazione delle sue componenti piuttosto che la soggettivazione della sua potenza e nella storia trasformazione di politico sono posti al centro gli individui meglio l'individuo con la I maiuscola è la linea neoliberale della lettura del biopolitico gli attori che cominciano con sempre maggior protervia a misurarsi su questo duplice terreno sono molti così differenti e così simili fra loro differenti opposti nella loro definizione della vita si direbbe spinozianamente gli uni affascinati dalla sostanza gli altri dai modi dell'essere simili nel fatto di negare il segno centrale dell'ontologia costruttiva frucoltiana la produzione la storia come prodotto del potere e della resistenza al potere la storicità come tessuto di differenze in realtà in entrambe queste posizioni in quella liberale in quella individualista come in quella antropologica e naturalista alla Latour c'è qualcosa di identico sono tutte in fondo attratte da un concetto astratto e profondo di natura quale vige nell'antropologia ed è quello di una natura individualizzata e isolata gli autori della revisione liberale di Foucault assumono un'identità profonda assoluta dell'individuo in tutte le sue forme ne fanno ne ripetono quell'impronta cartesiana quel feticcio fondamentale dell'ideologia occidentale per noi il mio politico vive ed è definito in quanto opposto al mio potere ovvero e mi pronuncio nei termini del materialismo spinoziano come potenza come terreno della potenza opposta al potere e questa è la linea che accosta Foucault non solo a Marx non solo a quel marxismo occidentale nel quale siamo cresciuti ma alla linea del materialismo produttivo che incardina in un unico blocco una ontologia realista ed una politica trasformativa è a partire dai corsi del 77 e 78 che Foucault si muove decisamente su questo piano e quando nel 1984 mancherà noi avremo davanti a noi questo formidabile insieme di materiali filosofici che sono le sue lezioni come un tutto compiuto come un tutto che integra e modifica radicalmente che modifica in maniera profonda lo stesso sviluppo precedente dell'opera Foucaultiana attratta spesso dall'impronta strutturalista e spesso limitata sul terreno di una pura analisi culturale ma l'elemento forse più importante e che serve anche come risposta alle due obiezioni che abbiamo qui sollevato è quell'articolazione fra politica e etica che è centrale nell'elezione cioè l'analisi del rapporto a sé contro ogni operazione individualizzante e contro ogni ripresa del soggetto individuale cartesiano perché perché questo rapporto a sé è dinamico è relazionale è aperto non c'è opposizione tra l'io e il noi è un noi moltitudinario ma d'altra parte ogni io è una moltitudine dentro questa relazione io noi moltitudine io si dà un filo che determina la potenza espressiva della storicità fucoltiana da questo punto di vista la costituzione capitalista del soggetto non è riducibile a pratiche individuali non è non può avere risposte puramente individuali ad un potere che vuole plasmare il produttore il cittadino il soggetto l'individuo la cura di sé il sé greco il sé che affonda nell'unità dell'essere la sua potenza è irriducibile all'io cartesiano la favola classica o socratica raccontata da Foucault è una favola che appunto ripropone quell'idea dell'essere che abbiamo visto finora e discusso finora la riprende interamente la resistenza quindi secondo punto è sempre una resistenza che è insieme costruzione di singolarità è un'eccedenza di essere da questo punto di vista il pensiero di Foucault e quello di Deleuze si integrano su questo terreno storico Foucault è il secolo ventunesimo voi ricordate probabilmente la presentazione che della recensione di Foucault all'antiadipo dove si parla di filosofia per il ventunesimo secolo credo che si possa perfettamente rovesciare il detto Foucaultiano perché in effetti Foucault è anche filosofia per il ventunesimo secolo in questa integrazione storica che dà alla ricostruzione della singolarità dell'oseana e tutto questo altro elemento fondamentale si determina in un rapporto fra l'etico è il fare che costituisce in effetti in fondo l'essere e tutto questo ancora sempre nelle elezioni costituisce la base del decentramento del processo di soggettivazione su un terreno che diviene tutto politico tutto espresso la parabola cinica che è ricostruita da Foucault è una parabola che sviluppa il passaggio fondamentale tra il dire il vero e il fare il vero è una parabola nella quale il cinico si presenta come un eroe di costruzione dell'essere e di affermazione della libertà fare se stessi nella libertà fare se stessi nel fare se stessi nell'essere della libertà e guardate bene qui confermiamo ancora proprio sulla base di questo sviluppo quelli che sono elementi che abbiamo fino a questo momento semplicemente indicato e cioè per esempio il fatto che il rapporto tra potere e resistenza pur essendo un rapporto inclusivo non è mai un rapporto transitivo è sempre un rapporto è sempre un rapporto intransitivo vale a dire che se il capitalismo produce il produttore il produttore è sempre libero di rivoltarsi di ribellarsi di costruire la propria soggettività non c'è neppure un'unghia dei degherismo in queste affermazioni fucoltiane Foucault è l'opposto di Heidegger è l'immagine di un mondo ricomposto nella sua unità immanente e materiale in cui la forza la potenza della vita riesce a porsi positivamente il rapporto dunque tra potere e soggettività è un rapporto che sempre si dà che è inscindibile eppure non è mai un rapporto che può ridursi ad unum all'egemonia totale del potere non c'è totalità il potere è sempre due è sempre un rapporto e un elemento di questo rapporto è un elemento creativo è l'elemento che dà sostanza alla vita ed è il lavoro vivo la vita libera relativismo di questa concezione ciascuno di voi probabilmente ricorda quel formidabile dibattito Tachomsky e Foucault dove a un certo punto di fronte alla dichiarazione dei valori universali fatta da Tachomsky Foucault risponde ma lei crede che gli operai che lottano per il loro salario vogliano per questo il potere no vogliono lottano per il salario perché vogliono il potere l'affermazione della lotta è più importante di qualsiasi universale siamo più o meno arrivati alla fine Foucault c'è un'ontologia critica che apre la lotta e che si confronta continuamente con il presente e credo che l'unica maniera per essere Foucaultiani sia quella di vivere questa realtà grazie 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 grazie